Alessio Luciani è un calciatore dell'Arezzo. Il difensore classe 90 ha al suo attivo anche una presenza in Serie A e una in Europa League con la Lazio e negli ultimi campionati ha giocato 33 partite nel Monopoli e 35 nel Gubbio, sempre in Lega Pro. Nei due anni precedenti aveva vestito la maglia della Salernitana, i cui tifosi lo avevano ribattezzato il gladiatore dopo la vittoria nel campionato di C2. Luciani ha firmato un accordo biennale con la società Amaranto. Non è l'unica novità. L'Arezzo infatti ha deciso di rinnovare il contratto, sempre per altri due anni, ad Edoardo Masciangelo alla sua seconda stagione in Amaranto. Nella stagione appena conclusa si aveva collezionato 12 presenze prima di essere inspiegabilmente accantonato da Capuano. Intanto arrivano novità sul fronte della Lega Pro e sull'utilizzo dei giovani. Ci saranno due liste, una di 16 over e una lista di giovani senza limite di numero. Più giovani giocano, più le società guadagneranno. Non ci saranno obblighi per l'utilizzo dei calciatori che sono nati dopo il 1 gennaio 1995.